Ore decisive in Ucraina. Dopo la telefonata di ieri tra Biden e Draghi, oggi il presidente americano riunisce i leader di Unione Europea e Nato. Governo battuto in commissione, maggioranza spaccata sul decreto mille proroghe. Irritazione da parte di Draghi, che vede Mattarella e richiama i partiti. Non si arresta la corsa dei prezzi dell'energia. Oggi in consiglio dei ministri il provvedimento per raffreddare i rincari delle bollette. Dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage, gli studenti delle superiori tornano a manifestare contro l'alternanza scuola-lavoro. Cortei e presidi in oltre 40 città. A Torbella-Monaca sono ancora vuoti gli alloggi pubblici, torti agli irregolari. Il quartiere tenta il rilancio e denuncia i problemi dei residenti. Crollo del fatturato e a rischio oltre 1.500 lavoratori. Il Covid ha messo in ginocchio gli alberghi romani, che ora chiedono aiuto al governo. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Tg di Lumsanews. All'indomani delle violazioni del cessate il fuoco e del reciproco scambio di accuse tra Kiev e separatisti, Biden riunisce gli alleati per fare il punto sulla situazione in Ucraina, in attesa dell'incontro con Putin. Il servizio di Alessio Brandimarte. La diplomazia tenta l'ultimo passo nella crisi russa-ucraina. Oggi vertice tra il presidente statunitense Joe Biden e il leader di Unione Europea e Nato sull'Ucraina. Sullo sfondo una possibile visita del presidente americano a Mosca per tentare di organizzare un incontro tra Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In giornata è prevista anche la conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove Zelensky vedrà la vicepresidente USA Kamala Harris. La prossima settimana ci sarà un incontro tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri russo Lavrov. Probabile a breve un faccia a faccia tra il capo del Kremlino e il premier Draghi, che ha sentito ieri Biden. L'attività diplomatica giunge all'indomani del reciproco scambio di accuse tra l'Ucraina e i separatisti del Donbass, con Kiev che accusa i filorussi di aver bombardato un asilo. Il ministero della difesa ucraino denuncia 60 violazioni del cessato e il fuoco da parte dei miliziani nelle ultime 24 ore, mentre i separatisti condannano gli attacchi delle forze governative contro le loro postazioni. Il governo battuto in Parlamento sul decreto mille proroghe. Sale la tensione nella maggioranza e Draghi convoca i capi delegazione. Oggi atteso il Consiglio dei Ministri con al centro alla discussione sul caro Bollette, il servizio di Claudia Torrisi. Il decreto mille proroghe spacca la maggioranza. Ieri, in fase di esame del decreto legge alla Camera, il governo è andato sotto ben quattro volte in commissione, scatenando l'irritazione del premier Mario Draghi, che ha richiamato all'ordine i partiti. Il premier, che si trovava a Bruxelles, è subito rientrato a Roma per un confronto urgente con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro della discussione, il momento difficile della maggioranza di governo, che tra liti e distinguo, rischia di mandare in fumo i fondi del PNRR. Il capo dello Stato ha dato pieno sostegno al premier, che subito dopo ha convocato i capi delegazione della maggioranza. Se le forze politiche non garantiscono i voti in Parlamento su provvedimenti cruciali per il Paese e per il PNRR, ha affermato Draghi, il governo non può andare avanti. Ieri, PD e Movimento 5 Stelle hanno strappato sull'ILVA votando contro il dirottamento delle risorse destinate alla tutela ambientale, mentre a destra, Lega e Forza Italia hanno giocato di sponda con Giorgia Meloni, facendo alzare il limite sul denaro contante a 2.000 euro dai 1.000 previsti dall'esecutivo. Oggi, in un clima teso, si terrà un Consiglio dei Ministri che affronterà la questione dei rincari dell'energia. Non si arresta la corsa dei prezzi di elettricità, gas e benzina. Oggi, come anticipato nel servizio, è atteso il Consiglio dei Ministri un decreto contro il caro Bollette. Ascoltiamo i particolari al DigiWall da Michela Pagano. A te, Michela. Buongiorno, Antonio. La crisi energetica negli ultimi giorni sta mostrando tutto il suo impeto. Secondo l'autorità di regolazione dei servizi pubblici di energia, acqua e rifiuti, nei primi due mesi del 2022 si è assistito ad un aumento del 131% per quanto riguarda il costo dell'energia e del 94% per quanto riguarda il costo del gas. Un altro fronte caldo è quello che riguarda i carburanti. I prezzi, infatti, sono saliti a 1,8 e 35 euro al litro per quanto riguarda la benzina e a 1,7 e 0,8 euro al litro per quanto riguarda il gasolio. Prezzi mai alti dal 2012. Rincari che stanno rendendo sempre più fragili le piccole e medie imprese, secondo l'agenzia Served che si occupa di affidabilità creditizia delle imprese. Si stima infatti che il rischio default entro la fine dell'anno per queste aziende sarà del 6,12%. A soffrire di più sono le aziende manifatturiere del centro Italia, con prospettive disastrose anche per il settore energivoro. Dunque, dicevamo tre le proposte del governo. Un tagliaprezzi per le imprese, ovvero un taglio annuale dei prezzi pari a 4,5 miliardi. Grazie a delle tariffe controllate, pari a meno di un quarto dei prezzi attualmente presenti sul mercato. E poi aumenti per famiglie e imprese pari a 7 miliardi. Di questi tre deriveranno dai proventi delle aste per le emissioni di CO2. Altri 2,5 miliardi deriveranno dalla cartolarizzazione degli incentivi alle rinnovabili. Un altro miliardo deriverà dalle pieghe di bilancio. E poi aumento della produzione di gas nazionale, tema sul quale si sta ampiamente dibattendo. L'obiettivo è infatti ridurre la dipendenza energetica del paese dall'estero e puntare invece ad un raddoppio della produzione nazionale di gas, potenziando i pozzi già esistenti ma non riaprendo quelli chiusi. Per farlo serviranno almeno 18 mesi, ma nel frattempo il Ministero per la Transizione Ecologica ha individuato delle zone nelle quali nei prossimi giorni potrebbero entrare in funzione le trivelle. Stiamo parlando dell'offshore, dell'atriatico e del canale di Sicilia. E non mancano già le prime proteste degli ambientalisti che hanno già annunciato di voler proporre dei ricorsi a oltranza contro un provvedimento che a loro dire non risolverà la crisi energetica del paese ma metterà a rischio altre zone. Infine si vuole puntare sul fotovoltaico e quindi più pannelli solari per le imprese private ma anche per la pubblica amministrazione. Infine resta ancora aperta la questione del gasdotto Nord Stream 2, progettato per trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno. L'unico modo per riportare i prezzi dell'energia entro valori accettabili sarebbe metterlo in funzione entro l'estate, ma come sappiamo il suo destino è inevitabilmente legato agli esiti della crisi russo-ucraina. E con questo è tutto, a te Antonio. Grazie Michela. Un aggiornamento dalla nostra redazione. Il governo di Kiev per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino ha reso noto che il numero di soldati russi schierati ai confini dell'Ucraina ha raggiunto la soglia dei 149 mila. E per quanto riguarda la Russia, la Russia ha annunciato che domani effettuerà sotto monitoraggio del presidente Vladimir Putin manovre delle sue forze strategiche, in particolare con il lancio di missili balistici e da crociera. Ma torniamo ai nostri servizi. Gli studenti delle scuole superiori protestano in tutta Italia contro l'alternanza scuola-lavoro dopo la tragica morte dello studente Giuseppe Lenoci durante uno stage. In collegamento dalla manifestazione di Roma, Nicolo Pescali. A te Nicolo. Buongiorno. Buongiorno Antonio. Gli studenti sono tornati in piazza per una mobilitazione nazionale in oltre 40 città italiane. Qua a Roma il corteo è iniziato in piazza Vittorio, ora come vedete alle mie spalle, sta continuando per raggiungere i cuori imperiali e poi i pressi di piazza Venezia. È stato organizzato dal movimento La Lupa, scuola in lotta. I manifestanti stimati sono circa 2000. Si protesta contro l'alternanza scuola-lavoro che è nemmeno un mese dalla morte di Lorenzo Barelli, vede morire un altro studente, Giuseppe Leonci. Gli studenti chiedono quindi maggior sicurezza durante lo stage anche nel quale restribuzione. Rimangono aperte poi altre questioni come per esempio quella della maturità. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha deciso di introdurre le due prove scritte. Gli studenti però non vogliono perché secondo loro anche quest'anno le lezioni non sono state complete, sono state assinghiozze e quindi devono avere lo stesso trattamento negli anni passati. Più in generale si chiede un ripensamento del modello scolastico, ancora troppo legato al voto e incapace di considerare le esigenze psicologiche dei singoli studenti. Con questo è tutto, a te la linea Antonio. Grazie Nicolo. Veniamo ai problemi di Roma. Dopo gli sgomberi a Torbella Monaca si aspettano le assegnazioni delle case popolari. La lotta dei residenti tra occupazioni abusive e i tentativi di rilancio del quartiere. Il servizio di Luca Sebastiani. Una torre gialla, altre tre grigie, da 14 piani e 72 appartamenti ciascuna. Torbella Monaca, quartiere est di Roma, sono il simbolo delle case popolari. Mesi fa, nella torre della legalità, via Le Santarita da Cascia, 50, alcuni appartamenti sono stati sgomberati da occupanti illegali. Tra i morosi è anche la famiglia di Giuseppe Moccia, già conosciuta alle forze dell'ordine per indagini di droga. Ora quegli alloggi sono vuoti e non si riescono ad assegnare. Gli inquilini delle torri, nonostante l'avvio della riqualificazione promossa dalla Regione Lazio, continuano ad avere problemi tra occupazioni o allacci dalle elettricità abusivi. Qui, in queste torri soprattutto, la problematica è di essere un po' la periferia nella periferia. Ma i residenti non credono che il problema sia la paura di vivere nel quartiere. È impensabile una cosa del genere, perché se uno ha bisogno di una casa non sta lì a guardare dove, quando e perché. Anche dall'assessorato ritengono sia solo questione di tempo, prima che vengano riempiti gli appartamenti vuoti, per continuare la riqualificazione di Torbella Monaca. Adesso c'è un risveglio, c'è un risveglio perché è come se toccando il fondo adesso stiamo tutti risalendo sopra, in superficie. Sembra un vero e proprio declino quello dei tram di Roma. Tra corsi annullate e bus sostitutivi la rete tramviaria fa registrare un crollo verticale delle corse. Il servizio di Paola Palazzo. La circolazione dei tram continua a calare. Secondo i dati mensili di Atac, negli ultimi mesi del 2021, la percentuale di chilometri percorsi è scesa dal 65,8 di agosto al 46,6 di dicembre. A causare il declino sono i continui guasti a mezzi e binari dovuti alla scarsa manutenzione all'età delle vetture. I sindacati lamentano problemi di gestione della società dovuti al continuo avvicendamento di direttori generali. Questa società non riesce più da anni ad avere un interlocutore. Non abbiamo un manager che riesce a stare qui almeno quattro anni. Ma la nuova amministrazione ha la soluzione pronta. Noi adesso sceglieremo un DG che ha davanti a sé un lungo tratto di strada per far sì che questa azienda di trasporto pubblico ritorni ai suoi albori. Il Campidoglio ha a disposizione 64 milioni di euro per intervenire. Particolare attenzione sarà data all'asse Prenestina Porta Maggiore dove ci sono ancora punti di scambio manuali. rallenta molto il servizio. In una situazione di traffico promiscuo è già più pericoloso. Al via il tentativo di regolamentare la presenza dei commercianti ambulanti in una strada strategica della capitale. In via Cola di Rienzo spostate le prime bancarelle ingombranti. Accordo tra comune e commercianti dopo mesi di polemiche. Il servizio è di Agnese Palmucci. La strada dello shopping nel quartiere Prati di Roma è stata liberata dalle postazioni ambulanti che ostruivano l'ingresso dei negozi. Dopo lunghi mesi dei ricorsi sembra terminato il braccio di ferro dei venditori con il Campidoglio. Tre postazioni sono state già dislocate nella vicina via Ovidio, come spiega il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Ambulanti, Angelo Pavoncello. I posti fissi hanno concertato, come dovrebbe essere con l'amministrazione, di spostarsi in via Ovidio. Le altre sono ancora lì perché sono rispettate quelle che sono le norme, i metraggi. Lo scorso ottobre il Tar aveva dato ragione al Campidoglio, riconoscendo lo spostamento di tutti i banchi davanti alla fermata della metro A, Cipro. Poi il Consiglio di Stato era intervenuto con una nuova sentenza che aveva ribaltato la situazione, fin quando, in accordo col comune, gli ambulanti hanno deciso di spostarsi nelle vicinanze piuttosto che a Cipro. Per la Presidente del primo municipio, Lorenza Bonaccorsi, si tratta di un provvedimento necessario. Non abbiamo nessun tipo di intento punitivo. È una questione di dare sia ai cittadini il giusto diritto al decoro di alcune strade, però anche all'esercizio delle attività commerciali. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale saranno in strada per controllare le irregolarità. Un altro aggiornamento dalla nostra redazione. Secondo quanto si apprende dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale per quanto riguarda i casi di Covid, si apprende che la maggiore occupazione per pazienti Covid nelle terapie intensive è rilevata nel Lazio, nella provincia autonoma di Trento e in Calabria. Ma torniamo ai nostri servizi. Le conseguenze del Covid mettono in ginocchio il settore alberghiero anche a Roma. Uno su tre è chiuso e oltre 1.500 addetti rischiano il posto. Il servizio di Paolo Consolini e Gabriele Crispo. Otelli agriturismi durante la pandemia hanno perso il 90% di fatturato. In Italia, secondo Federalberghi, sono a rischio oltre 500.000 posti di lavoro. Le grandi città hanno subito un crollo del 71% degli ospiti nel 2021. Come denuncia Roberto Necci, vicepresidente di Federalberghi Roma, nella capitale un albergo su tre oggi è chiuso e la ripresa è prevista solo per il 2025. Le città d'arte, ma Roma in particolare, soffre la mancanza di un turismo internazionale che prima del Covid incideva circa il 70% del fatturato delle aziende alberghiere. All'hotel Sheraton, dove mercoledì scorso c'è stato il settino dei dipendenti, tutti e 164 lavoratori rischiano il licenziamento. L'albergo di lusso è chiuso dal 16 marzo del 2020 e dallo scorso settembre sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione che dureranno 18 mesi. Federalberghi Roma sostiene che in tutta la città 1.500 dipendenti hanno ricevuto, stanno ricevendo, procedure di licenziamento. In assenza di una ripresa e di un sossegno concreto all'economia da parte del governo, difficilmente ci sarà una inversione di questa tendenza. Questo era l'ultimo servizio, ma vi ricordiamo che l'informazione prosegue sul nostro sito www.lumsanews.it e sui nostri canali social. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tg di Lumsanews.